Musica Ospedale alla Pellerina, il consiglio regionale è favorevole Unanimità per i diritti delle donne in Afghanistan e Iran Alessandria avrà l'azienda ospedaliero universitaria Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati L'Assemblea regionale ha dato il via libera a due ordini del giorno Favorevoli alla collocazione alla Pellerina del nuovo ospedale Che sorgerà a Torino Ovest Respinti invece tre atti di indirizzo contrari L'Assemblea ha approvato due ordini del giorno Favorevoli alla realizzazione del nuovo ospedale dell'Asle di Torino Sostitutivo del Maria Vittoria e della Medio di Savoia alla Pellerina Primi firmatari il presidente del consiglio regionale Stefano Allasia Il capogruppo del partito democratico Raffaele Gallo Respinti invece altri tre atti di indirizzo Affirma Giorgio Bertola, Europa Verde Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare E Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle Contrari all'individuazione della nuova struttura alla Pellerina Tutti gli atti di indirizzo facevano seguito all'assemblea aperta Dedicata a tale ospedale che si è tenuta la scorsa settimana Dopo l'illustrazione da parte dei primi firmatari Si è svolto il dibattito generale nel quale sono intervenuti anche Diego Sarno, Partito Democratico, e Paolo Ruzzola, Forza Italia L'assessore alla Sanità Luigi Icardi ha rimarcato l'esigenza di condividere La scelta del sito con l'amministrazione comunale Che aveva offerto sette aree possibili La preferenza sulla Pellerina è dipesa dal fatto che i tecnici comunali Avevano attribuito a quell'area, seppur di poco, il migliore punteggio In chiusura di seduta via libera da parte dell'assemblea anche alla mozione Affirma Alberto Preioni, lega sulle azioni necessarie per favorire Il collegamento internazionale tra Italia e Svizzera attraverso il passo del Sempione Un'animità per un ordine del giorno sui diritti delle donne in Afghanistan e Iran L'approvazione è venuta nell'ambito della seduta aperta del Consiglio regionale Convocata al Salone del Libro Un ordine del giorno per le donne afghane e iraniane A favore della libertà e delle condizioni di vita Del rispetto dei diritti individuali Lo ha votato all'unanimità il Consiglio regionale Riunito straordinariamente presso l'Arena Piemonte Nella giornata conclusiva del Salone del Libro di Torino Primo firmatario del documento il Presidente Stefano Allasia Il Consiglio regionale si apre sui diritti umani Su un tema internazionale Un tema caro a tutti Quello dei diritti umani nei paesi islamici Soprattutto Afghanistan e Iran Rivendicando quei diritti fondamentali Che anche deve essere riconosciuti e mantenuti qua in Piemonte Quello che bisogna riuscire a fare come istituzioni Non solo regionali ma anche nazionali E soprattutto europee E cercare di trovare il modo politico Per portare questi regimi Non solo al dialogo Ma anzi oserei dire Ad un isolamento dal parte dell'Occidente Vorrei ringraziare il Consiglio Di aver preso posizioni Per quanto riguarda i diritti delle donne Soprattutto nei paesi Laddove c'è veramente repressione Sulle donne come in Afghanistan Come in Iran Alcuni paesi arabi Per cui queste iniziative sono molto apprezzate da noi Dalla nostra comunità E da chi crede in un islam diverso Non è quello che noi vediamo Perché è un islam politicizzato Che viene strumentalizzato Presente in Arena Piemonte Anche Roberto Ciambetti Coordinatore della conferenza Dei presidenti delle assemblee legislative E presidente del Consiglio Veneto È importante portare Un'assemblea legislativa All'interno di una manifestazione Grandissima Come il Salone del Libro Ed è anche importante Discutere di un tema Come quello di diritti civili e umani Quindi ottima idea del collega all'Asia L'amico all'Asia E penso che sia appunto anche un momento Per far conoscere ancora di più Il Consiglio regionale del Piemonte In un momento appunto che vede Un'affluenza di migliaia Decini di migliaia di persone In una realtà bellissima come questa Alessandria avrà l'azienda ospedaliera universitaria Vi libera da parte dell'Aula Alla proposta di deliberazione Il Consiglio regionale Ha approvato all'unanimità dei votanti La proposta di deliberazione Della giunta per avviare l'iter Che trasformerà in azienda ospedaliera universitaria L'attuale azienda ospedaliera Santi Antonio Ebiaggio E Cesare Arrigo di Alessandria Il documento è stato illustrato in aula Dall'assessore alla sanità Luigi Icardi Darà alla sanità alessandrina Sicuramente grandi prospettive per il futuro Quindi è necessario Visto che sono procedimenti articolati E complessi Partire subito E poter dare ad Alessandria A tutta la provincia di Alessandria Ma al Piemonte in generale D'avere una risposta molto più adeguata E molto più di livello qualitativo L'azienda diventa un'azienda mista Un policlinico universitario E questo creerà ulteriormente Uno sviluppo Sia in tutti i campi Dalla ricerca alla formazione La didattica Ma anche nell'assistenza ospedaliera In discussione generale I gruppi di opposizione Avevano inizialmente obiettato sul metodo Si era così giunti a una breve informativa Dell'assessore e successivamente In sede di dichiarazioni di voto Il Partito Democratico ha ritirato Gli emendamenti presentati a firma Domenico Ravetti Ed espresso soddisfazione Per il fatto che l'assessore Abbia inquadrato la delibera In un contesto che sarà possibile approfondire Il tema è che nel momento in cui si trasforma un'azienda Ab così importante È fondamentale l'analisi dello stato delle cose A partire dal personale Alla produzione interna Alle criticità La conferenza delle regioni diventa istituzione Anche il Piemonte ha ratificato L'intesa che ne disciplina le competenze All'unanimità il Consiglio regionale Ha ratificato attraverso un disegno di legge Dell'istituzionalizzazione della conferenza Delle regioni e delle province autonome Con numerosi compiti Tra cui promuovere la definizione di proposte Posizioni comuni e iniziative Esprimere pareri su temi di interesse Delle regioni e delle province autonome Al fine di rappresentarle al governo e al Parlamento E agli altri organismi centrali dello Stato E alle istituzioni dell'Unione Europea Svolgere attività istruttoria Rispetto agli atti posti all'ordine del giorno Della conferenza Stato-Regioni ed Unificata E in tutte le sedi di concertazione Interistituzionale Promuovere il raccordo con le associazioni Rappresentative delle autonomie locali A livello nazionale ed europeo Promuovere il raccordo e le intese Per la cooperazione istituzionale Tra le regioni e province autonome Per la definizione di indirizzi condivisi E l'esercizio coordinato Delle rispettive competenze e funzioni Una rappresentanza Dell'Ufficio di Presidenza E dei Consiglieri Ha ricevuto a Palazzo Lascaris I lavoratori dei call center Del centro unico prenotazioni In sanità Che hanno evidenziato Le criticità dei servizi E è chiesto di potenziare La loro presenza Durante i giorni infrasettimanali Quando per motivi organizzativi È possibile prenotare più facilmente Le prestazioni sanitarie Piuttosto che il sabato O la domenica Sono state chieste inoltre Maggiori garanzie lavorative Anche attraverso una re-internalizzazione In sanità Perché attualmente Sono assunti in part-time involontario Con un appalto Al massimo ribasso Arena Piemonte Gremita Di ragazzi e ragazze Delle scuole piemontesi Nella giornata finale Del Salone del Libro In occasione Delle premiazioni Degli studenti Vincitori Dei concorsi Indetti Dal Consiglio regionale Del Piemonte Storia contemporanea Diventiamo Cittadini europei Uso responsabile Del denaro E le note Del cuore Nel corso dell'evento Il presidente del Consiglio Stefano Allasia Ha annunciato Che a settembre Sarà indetto Un nuovo concorso Che destinerà Una borsa di studio Per universitari Che hanno scritto Una tesi sul tema De Il Signore Degli Anelli Studenti protagonisti Sempre in un'arena Piemonte Affollatissima Anche dell'incontro La scuola Al tempo Dei social Che ha avuto Come focus La didattica Nell'era digitale Per accorciare La distanza Tra insegnanti e allievi In un mondo Sempre più interconnesso Ragazzi e ragazzi Oggi comunicano Anche Anzi Quasi soprattutto Attraverso certi strumenti Portarli a scuola Può essere proprio Un modo Per imparare Le loro parole Per me la parola chiave Resterà sempre Ascolto Perché è solo grazie All'ascolto Che puoi farti ascoltare Il mio compito È quello di farli Innamorare Della mia materia Di farli entrare Nel mondo Di chi ha voglia Di scoprire Di chi ha voglia Di creare cose belle E allora Devo utilizzare Anche i loro metodi I loro linguaggi In questo caso I social Mi hanno aperto Una possibilità Immensa Di riuscire A dare Dei piccoli semi Che chiaramente Non si possono esaurire In un video Di un minuto Di due minuti Però si può creare Quella curiosità Al sapere Al conoscere Per questa edizione È tutto Prima di salutarvi Vi ricordo che Sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie E aggiornamenti Sull'attività Del Consiglio regionale Del Piemonte Arrivederci Il Piemonte Il Piemonte Il Piemonte Il Piemonte Il Piemonte Il Piemonte